Fratelli carissimi, oggi un Vangelo bellissimo che ci parla della libertà, della libertà di Dio nell'amarci, nell'averci pensati, creati come Suoi amici, non c'è nessun segreto nascosto, noi sappiamo quello che Dio vuole, quello che Dio pensa, noi conosciamo il Suo amore. Nella Chiesa, attraverso la predicazione della parola, attraverso l'iniziazione cristiana, attraverso le liturgie, attraverso i sacramenti, attraverso la comunione con i fratelli, è Gesù stesso che ci svela, cioè toglie il velo a ogni mistero. Il mistero, secondo San Paolo, non è qualcosa di misterioso, nel senso qualcosa come i sceneggiati, come i film gialli, no, il mistero è qualcosa di autentico, di reale, è il fondamento. Il mistero è Dio stesso, che nessuno ha mai visto, ma che Gesù Cristo ha rivelato. Esiste Dio, il Vangelo di oggi ci dice che Dio esiste ed è nostro Padre, come ci rivela ciò che ha udito dal Padre, la parola che ha udito dal Padre, la parola creatrice, la parola di conforto, la parola di consolazione, come amandosi. E' l'amore, fratelli, è l'amore il fondamento della nostra vita, è l'amore che ci costituisce, è l'amore e non l'abbiamo scelto noi. Allora c'è un'origine in tutti gli uomini, un'origine gratuita, un'origine che noi non abbiamo scelto. Già questa parola, scegliere, chiedete a un ragazzo che cos'è la libertà, e ti dirà fare quello che voglio, scegliere quello che voglio. Ebbene è vero, c'è il libero arbitrio, che è un santuario inviolabile in ogni uomo. Ve l'ho detto tante volte, anche l'uomo più corrotto. Anche se un ragazzo fosse nato in una famiglia di mafiosi, figlio, nipote, pronipote di mafiosi, faccio un esempio, non è obbligato ad essere mafioso. E questo lo potete sperimentare tutti, l'avete sperimentato tutti. Forse la cultura, la società, che continua a mettere l'accento su ciò che è esterno all'uomo, sui suoi condizionamenti, la lotta di classe, la cultura, le rivoluzioni. Tutto dice che il condizionamento esterno, esteriore, familiare, la psicologia, il condizionamento familiare, il condizionamento sociale, eccetera, determina le nostre scelte. Non è vero, non è vero, lo ripeto, non è vero perché se fosse vero, allora saremmo dei burattini. Allora sì che esisterebbe un fato, un destino maligno che si avventa su alcuni lasciando perdere gli altri. Non è vero, fratelli carissimi, non è vero. Siamo liberi, liberi. Ma libertà che cosa vuol dire? Noi pensiamo veramente di essere liberi di scegliere che cosa fare, che cosa non fare, che cosa dire, che cosa non dire. Ed è libero arbitrio. Ma lì nel libero arbitrio è stato deposto un semi di menzogna. Per questo normalmente scegliamo il male. Scegliamo ciò che fa bene innanzitutto a noi. Ciò che garantisca la nostra incolumità, le nostre ragioni, i nostri criteri. Siamo liberi perché quel santuario è inviolabile e non sono i condizionamenti esterni. C'è un momento in cui, questa è la mia esperienza e nessuno me la toglie, ma è anche la tua. Quando ho deciso di fare testa mia, quando ho deciso di fronte alla storia, di fronte alle difficoltà, di fronte alla sofferenza, di fronte all'ingiustizia, ho deciso di prendere la mia vita e fare quello che volevo io. L'ho deciso e non ero neanche così adulto. Ero giovane, come oggi, come domani, come ieri. Sono libero, libero, ma questa libertà è infettata dalla menzogna del demonio. Mi convince che Dio non mi ama. E che cosa c'entra, scusa, con scegliere una facoltà piuttosto che un'altra, tra scegliere se andare al cinema o restare a casa, se studiare o non studiare, se scegliere quella ragazza, scegliere quel ragazzo, scegliere di sposarsi. Che c'entra questo? C'entra tantissimo. Perché se alla mia origine non c'è l'amore, se all'origine di ogni uomo non c'è un atto gratuito, e per questo misterioso, perché la gratuità non è il nostro patrimonio, se nella mia origine, alla mia origine non c'è l'amore di Dio, se non sono stato scelto, voluto, desiderato, pensato, creato per amore, allora tutta la mia vita sarà ferita, sarà sporcata, ci sarà qualcosa che mi porterà a dubitare costantemente di ogni cosa, di ogni persona, di ogni situazione, cercando, consciamente o inconsciamente, il marcio, il male, quello che mi fa male, quello che mi potrebbe ferire, quello che potrebbe rubarmi la vita. E cercherò di evitarlo. È libero chi può scegliere veramente tra un'opzione e un'altra, senza essere condizionato dal fatto che Dio non esiste, o che se esiste comunque non mi ama davvero. e quindi mi devo tirare su le braccia, tirare su le maniche e cavarmela da solo, e quindi evitare il male, evitare il sacrificio, evitare il dolore che suppone l'amore. Questo si chiama egoismo, questo si chiama superbia, questo è il frutto visibile del peccato originale, il frutto della ferita che portiamo tutti, senza distinzione di razza, di cultura, di età, eccetera. Per questo il Signore dice, non vi chiamo servi, ma amici, perché tutto quello che io ho detto dal Padre mio, ve l'ho fatto conoscere. Cioè nella Chiesa è smentita la menzogna del demonio, l'annuncio del Vangelo, e il compimento di ciò che l'annuncio ci dice, del contenuto dell'annuncio, cioè della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, che è la prova che Dio ci ama infinitamente, fino a dare suo figlio, per venirci a scovare, ogni giorno, nelle scelte sbagliate, nelle scelte egoistiche, nelle scelte utilitaristiche, che ci portano alla morte, perché ci separano dall'altro, perché l'amore suppone un dono senza riserve, l'amore suppone morire per l'altro, morire, dare la vita, e se io non posso, perché è come cascare senza rete, buttarsi dal terzo piano senza rete, e non posso, non posso, perché se una volta io mi sono donato, e mia moglie non mi ha capito, e non mi ha dato quello che io volevo, il mio utile, la seconda volta ci metterò molto di più per donarmi, e la terza non mi dono più, la terza mi dono con riserva, con una data di scadenza, ogni nostro gesto ha una data di scadenza, si corrompe, la corruzione, la corruzione dell'amore, per questo la gente si divorzia, per questo si lascia il presbiterato, per questo si rompono le amicizie, per questo i rancori e gli odi, verso quel cugino, verso quel parente che ti ha rubato i soldi, che ti ha sottratto qualcosa all'eredità, per questo è impossibile perdonare, bene, questo è il quadro della nostra vita, ma qui dice qualcosa di diverso, il Signore Dio ci annuncia una cosa meravigliosa, ehi, Dio ti ama, e sai perché Dio ti ama? Sai perché Dio esiste e ti ama infinitamente? Sai perché alla tua origine esiste l'amore? Lo sai perché? Perché non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché portate il frutto, e il vostro frutto rimanga, il vostro frutto non sia un frutto che si corrompa, ma incorruttibile, e in Israele i ragazzi sceglievano i propri rabbini, i propri maestri, quindi Gesù che sceglie gli apostoli è una rivoluzione, copernicana, è una cosa che non accadeva mai, non era mai accaduto, tu scegli la scuola, scegli i professori, scegli il maestro, scegli chi seguire, chi è affine al tuo carattere, insomma sempre tu al centro, tu al centro dell'universo, perché? Perché non sei stato scelto, perché non sei stato amato, per questo devi scegliere, sei obbligato a scegliere, quindi la libertà è in fondo una schiavitù, devi scegliere ciò che ti dà piacere, ciò che ti garantisce, ciò che ti sazia, ciò che ti realizza, ma come? come secondo la carne, secondo i tuoi desideri, buoni, non immediatamente frutto della concupiscenza, no, molte volte anche quello, certamente, allora vedete che non è il condizionamento esteriore, ma è il condizionamento interiore, una ferita che portiamo dentro, un vereno che portiamo dentro, che il Signore è venuto a togliere dal nostro cuore, è questo il senso più profondo del mistero pasquale, Gesù che depone la sua vita, che la getta dentro di noi, per togliere questo veleno, veleno antico, che Dio non ci ama, che non c'è un'origine buona, santa, giusta, bella, nella nostra vita, ma come siamo nati? C'è stato un istante, nella quale il seme di nostro padre, ha trovato accoglienza, nell'ovocita di nostra madre, ed è apparso, apparso quello zigote, che siamo stati, tu ed io, alle origini, prima di quell'istante, fratelli carissimi, nessuno di noi esisteva, nessuno ha scelto di essere, quello spermatozoo più forte della frotta, che tentava di guadagnare l'ovocita, al cui DNA donare il proprio, nessuno di noi ci ha messo nulla, semplicemente eravamo in quel seme lì, dentro a quel seme lì, e in quella ovocita lì, punto, e siamo apparsi in questo mondo, uno zigote impercettibile, 46 cromosomi, che contenevano tutto quello, che ci avrebbe caratterizzato, il profilo del naso, il disegno della bocca, il timbro della voce, compresi i difetti, ci siamo poi impiantati, nell'utero di nostra madre, attraverso il tessuto, che tappezza la sua superficie interna, quello che si chiama endometrio, in un dialogo biochimico, affascinante, nel quale abbiamo messo a frutto, la prima cosa imparata, l'amore per il quale, i nostri genitori si sono uniti, dandoci la vita, è molto importante questo, fratelli, perché da subito, abbiamo cominciato ad offrire qualcosa di noi, secernendo, le sostanze necessarie, all'impianto dell'embrione, per unirle, a quelle rilasciate, dall'endometrio di nostra madre, altrettanto necessarie evidentemente, è una chimica d'amore, all'origine biologica, della nostra vita, c'è una chimica d'amore, che rivela, l'identità originale, che ci caratterizza, noi siamo per natura, un dono, iscritto nel dono più grande, che ci ha generato, la nostra vita, sin dalle prime luci dell'alba, è stata donare, come abbiamo ricevuto in dono, amare, come siamo stati amati, l'avverbio, come, katos, che appare nel Vangelo, in greco, non esprime soltanto un paragone, ma anche il fondamento, e l'origine, l'amore di Cristo è norma e fondamento di ogni amore, come, 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 come siamo stati amati, per questo il Vangelo, la parola del Vangelo, si potrebbe anche tradurre così, per il fatto che io vi ho amato così, che siete stati chiamati, dentro questo mio amore concretissimo, amatevi anche voi, con questo amore dal quale siete stati chiamati e costituiti, nel quale esistete, lasciate, che l'amore che ho effuso in voi, quello con il quale vi faccio vivere, alzare la mattina, giunga all'altro, chiunque esso sia, anche se sei frutto di uno stupro, anche se tua madre non ti voleva, c'è stata una scintilla, un istante, benedetto da Dio, nel quale tu, 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 sei apparso su questa terra, nel seno di tua madre, e questa è un'immagine bellissima, di ciò che ci sta accadendo e ci è accaduto nella Chiesa, un istante nel quale tu, gratuitamente, hai ricevuto una parola, che ti ha preso, e ti ha fatto attaccare all'endometrio della Chiesa, all'utero della Chiesa, stavi male, non te ne importava nulla, eri disperato, ti piaceva una persona, una ragazza, e sei andato ad ascoltare un annuncio, forse questo commento banale, questo piccolo commento di ogni giorno, non lo so, un amico, qualcuno che ti ha parlato di Gesù Cristo, e in quel momento, dal cielo, Dio ha benedetto, quell'istante, ha benedetto te, te, e ha voluto te, dentro le viscere della Chiesa, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, forse tu cercavi, cercavi una soluzione ai tuoi problemi, cercavi amore, cercavi di essere un luogo, una parola che ti dicesse, guarda che non è vero che Dio non esiste, guarda che non è vero che Dio non ti ama, non è vero, tutte le persone che pensano di essere nati per sbaglio, e che la psicologia, giustamente dice, che portano dentro una ferita, perché il bambino sente se non è voluto, se non è amato nel seno della madre, se non è accolto fino in fondo, sì è vero, è vero, molti di noi vivono questo, e poi forse lo vivono nella famiglia, forse sentono dei condizionamenti esterni, affettivi, molto profondi, ma quelli, quelli, l'esterno, non fa altro che tirare fuori quello che c'è dentro di noi, il veleno dove, il demonio già, il veleno che il demonio già ha deposto dentro di noi, perché noi non reagiamo naturalmente, con uno sguardo di misericordia, con uno sguardo di pazienza, con uno sguardo di giustificazione verso nostra madre, verso la sua debolezza, forse, verso la sua incapacità di amare, no, ma con l'odio, con il rancore, perché il demonio ci ha convinto, che tutto sia stato un caso, come molte cose che ci accadono, pensiamo che siano casuali, perché in fondo all'origine, nella nostra vita c'è il caso, non c'è Dio che ha scelto che quello sprematozoo si attaccasse a quella vocità, in quel momento, in quell'istante, dando carne al suo pensiero, eterno, incorruttibile, che eri tu, che ero io, dall'eternità, per l'eternità. Ebbene, questo è ciò che Gesù ha udito dal Padre, e ce l'ha rivelato, guarda che Dio ti ha amato sempre, guarda che anche se c'è stato, è stata una relazione occasionale, tra tua madre e tuo padre, anche se tua madre neanche si ricorda di chi sei figlio, anche se sei il quarto figlio, il terzo figlio, e forse non ti avrebbe voluto, anche se sei il frutto di, non so, di una relazione scomposta, come accade molte volte in Sud America, in altri posti, tu sei amato da Dio, Dio ti ha pensato, e ti ha voluto a tutti i costi, forse aveva pensato per te, la nascita in una situazione differente, anzi sicuramente, Dio ha pensato per te il bene, ma c'è il peccato dell'uomo, c'è il peccato di tua madre, il peccato di tuo padre, il peccato delle famiglie, certamente, ma quei condizionamenti, i peccati, che si manifestano con uno stupro, non hanno avuto ragione del desiderio di Dio di averti qui sulla terra, di farti conoscere l'amore, di darti una carne, di darti occhi, di darti bocca, di darti carne, di darti vita, perché tu possa sperimentare, fai sperimentare l'amore, l'amore, lui, e per poterlo godere eternamente, perché la vita, la vita come dice il catechismo, su questa terra, è che cosa? Conoscere l'amore di Dio, amare Dio, per gustarlo eternamente, preparandosi a gustarlo eternamente, c'è un desiderio di Dio, di fare carne, di la creazione, tutta la creazione, leggete i racconti della creazione, sono amore, 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 amore che crea, amore che crea tutto, perché l'uomo possa essere un re, un re che goda i gusti della natura, del cibo, dello svago, di tutto, ma c'è il peccato, il peccato che contesta questo, che contesta l'amore di Dio, ebbene oggi il Signore ci dice, guarda, tu sei mio amico, tu non sei un mio nemico, non sei un mio schiavo, non sei un robot, non sei un pupazzetto della Playstation, che il fato, il destino, il caso, o un Dio mostruoso, governa a suo piacimento, no, no, anche se sei debole, anche se nella tua libertà, assoluta, sconfinata, infinita, la libertà che questa sì che è misteriosa, la libertà che noi non daremo a nessuno, né il nostro figlio, né la nostra amate, né a nessuno, né a nostra moglie, la libertà, nella quale, hai ascoltato, la menzogna del demonio, e sei stato ferito, e hai peccato, hai conosciuto la morte, e tutto quello che era amore, si è trasformato in ingiustizia, tutto quello che era preparato per te, è diventato qualcosa di triste, di angosciante, di opprimente, la relazione con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, il lavoro, qualsiasi cosa che Dio ha dato a te per essere felice, si è trasformato in piccoli anticipi, di inferno, di solitudine, di sofferenza, di frustrazione, ebbene, io ti ho amato tanto, che non ti ho lasciato, in quel frutto avvelenato, e corrotto, della tua libertà, dove il demonio ti ha ingannato, io sono venuto lì, ho mandato mio figlio lì, questo significa, io ti ho scelto, io ti ho scelto, da sempre, per questo sono, ti amo così testardamente, così gelosamente, da venire, ogni momento, ogni istante, in ogni secondo, a cercarti, da dove tu ti metti, impantani, da dove tu soffri, da dove tu pecchi, da dove tu non sopporti anche i peccati degli altri, e ti schiacciano, e ti uccidono la sofferenza innocente, che tante volte appare sulla terra, io, agnello immolato, dice il Signore, io, sono stato ucciso ingiustamente, io sono entrato nell'ingiustizia, che ti ha distrutto la vita, che ti distrugge la vita, che distrugge il tuo matrimonio, che ti rende infelice, ti rende incompiuto, io, per dimostrarti, dimostrarti, rivelarti, svelarti, annunciarti, che tu sei amato da Dio da sempre, tanto amato, da essere cercato, capito, io ti ho tanto amato, tanto come ti ho amato, come, cercandoti, 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 ostinatamente, ogni giorno, ogni momento, con la parola, con i sacramenti, con la storia, con i fatti, che umilino la tua natura, ferita, il tuo orgoglio, la tua superbia, perché tu puoi diventare piccolo, 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 per questo anche le malattie, per questo anche i rovesci economici, per questo anche le difficoltà di relazione, tutto, in tutto, c'è dentro l'amore di Dio, è questo che ha udito Gesù dal Padre, e te lo sta dicendo, ma come l'ha udito? Nella sua carne, perché udendolo, udendo l'amore, che Dio ha per ogni uomo, questo amore si è fatto carne in Gesù Cristo, per questo è entrato nella sofferenza, è entrato nelle frustrazioni, è entrato nell'ingiustizia, è entrato laddove tu sei entrato, per dirti, guarda, io ti amo così tanto, che sono venuto a convertire, anche la malattia, in un atto d'amore, cioè ho messo l'amore anche dentro un cancro, perché tu possa diventare piccolo, e ho cambiato le sorti di un cancro, che non è una sventura, una malattia è un problema, non solo una sventura, la guerra, che ha strappato mia madre dalla sua terra, profuga Giuliana, l'ha portata a Roma, dopo tanti vicissitudini, per incontrare me, per accogliere me, per incontrare mio padre, per accogliere me, allora la guerra, che è terribile, è stata il luogo dove si è incarnato Cristo, per mia madre, l'ha accompagnata misteriosamente, fino ad incontrarmi, perché io potessi essere accolto, e quello sradicamento di mia madre, quel dolore di mia madre, ha incontrato il mio dolore, di essere stato abbandonato, perché tutti e due siamo stati guidati misteriosamente dall'amore geloso e incorruttibile di Dio, e io potessi essere accolto da chi era stato buttato fuori dalla propria terra, e quindi quello che alla carne è stato percepito come un'ingiustizia, per mia madre e per me, Dio l'ha trasformato in un atto di giustizia, ha reso giustizia, ha convertito l'ingiustizia in giustizia, ha reso giusta la nostra vita, bella la nostra vita, ha preparato mia madre, ha preparato me a conoscere Lui, proprio nel nostro incontro, capite che è tutto trasformato, è tutto trasfigurato, perché all'origine c'è l'amore incorruttibile di Dio, che porta a compimento il suo disegno di amore, il suo disegno buono, bello, giusto, santo, sulla vita di ciascuno, ed è esattamente quello che ci dice oggi la parola, che sperimentiamo tutti, tutti, in ogni momento, in ogni posto, in ogni cultura, è scritto, questo amore è scritto in noi, nel nostro DNA, nel nostro spirito, nella nostra carne, nelle cellule, è quella libertà, che ci spinge a donarci, e ci fa superare ogni confine, tu pensi che, qualcuno ti obbliga, a studiare per, se vuoi superare quell'esame, per raggiungere quella laurea, chi ti dà quella forza, o se ne fai una partita, chi ti obbliga, a sforzarti, a allenarti, ma è un piacere, così all'inizio di ogni relazione, per esempio, quando ti inamori di una ragazza, che cosa c'è lì, a quell'origine, in quell'origine, in quel principio, che cosa c'è, cosa c'è, il seme dell'amore di Dio, più forte dell'egoismo, poi certo, si macchia, e vorremmo possedere la ragazza, e vorremmo usare, e useremo della laurea, per ratificarci, per crescere, per superare gli altri, e poi diventa un macello molte volte, e diventiamo angosciati, ma all'origine, all'origine, c'è qualcosa di puro, perché alla nostra origine, c'è qualcosa di puro, che è l'amore di Dio, descriveva Pegui, Cial Pegui, descrivendo quell'ansia di infinito, quell'entusiasmo, che all'inizio di ogni cosa, ci farebbe spaccare il mondo, poi dopo, certo, siamo incostanti, perché siamo feriti, e abbiamo bisogno di conoscere a Cristo, diceva, scriveva Cial Pegui, tutto quello che comincia, ha una virtù, che non si ritrova mai più, perché è sporcata dal peccato, una forza, una novità, una freschezza, come l'alba, una giovinezza, un ardore, uno slancio, un'ingenuità, una nascita, che non si trova mai più, c'è in quello che comincia, nel principio, una fonte, una razza, una razza, quella del figlio di Dio, immagine, somiglianza di Dio, del suo amore, nel quale siamo stati creati, che si è arrivata in quel momento, in cui siamo stati impiantati, in cui si è incontrato lo spremato zoo, quella razza, la razza, che Gesù è venuta, è venuto a rivelare, e a pulificare, e a ridare vita, a quella razza, del figlio di Dio, una partenza, un'infanzia, che non si ritrova più, ora, la piccola speranza, è quella che sempre comincia, quella nascita perpetua, quell'infanzia perpetua, per sperare, diceva Pegui, bimba mia, bisogna essere molto felici, qual è la felicità? qual è questa grande felicità, che ci spinge a sperare, il volto di Cristo, che viene a te e a me oggi, che rivela, la tua identità, che rivela la tua origine, che sei stato creato per amore, che Dio, ha, ha, eh, seminato, ha, ha fatto, ha preso il suo figlio Gesù Cristo, si è fatto spazio, in mezzo ai peccati, in mezzo all'orgoglio, in mezzo ai macelli, per ridare vita a quell'origine, a quella scintilla originale, di amore, di amore, che viene prima del peccato originale, siamo stati scelti prima di essere nevrotici, prima di essere simpatici, prima di essere chiusi, prima di essere ciccioni, o magri, o con un carattere orribile, o con un carattere dolce, prima di essere quello che siamo, prima di, prima di peccare, prima di essere un macello, prima di fare macelli, Dio ci ha scelti, per questo un matrimonio si può salvare, sempre, perché Cristo ha dato la vita, per ridare vita alla nostra origine, per ridare vita a ciò che siamo stati creati, a quello che ci costituisce veramente, l'amore, come io vi ho amati, come? Ti ho amato facendo risbocciare in te l'amore, ti ho amato perché tu possa conoscere l'amore, nel quale sei stato creato, nel quale tu ti sei sposato, nel quale sei diventato prete, nel quale sei un ragazzo, nel quale sei uno studente, nel quale sei una persona anziana, l'amore, l'amore che sta dentro una malattia, questa è la grande notizia del Vangelo di oggi, stupenda, stupenda fratelli, perché tu sei stato amato, da sempre, come saresti diventato, cioè Dio ti ha amato come sei oggi, come sarai domani, come sarai tra dieci anni, Dio ti ha amato prima, prima, alla nostra origine vi è una roccia indistruttibile, la gratuità dell'amore e delle lezioni di Dio, la grazia della nostra primogenitura ad essere i figli di Dio, nella Chiesa, nella Chiesa questo noi lo scopriamo, per rivelarlo al mondo intero, nella Chiesa noi lo scopriamo per rivelarlo ai nostri figli, per rivelarlo ai nostri colleghi, per rivelarlo giorno per giorno a nostra moglie, e nostra moglie a rivelarlo a noi, e come prete abbiamo questa missione primogenita, primaria, fondamentale, annunciare l'amore più forte di ogni rifiuto, più forte di ogni egoismo, di tutti i nostri peccati, delle nostre ingannate pretese di autonomia, Gesù Cristo è venuto a rivelare l'amore che trasforma le nostre scelte sbagliate in un cammino di umiliazione per incontrare Lui, e questo, fratelli, ciò che oggi il Signore ci dice, perché non c'è nessun amore più grande che dare la vita, deporre, secondo il greco originale, la propria vita per gli amici, e tu sei amico di Dio, sei amico di Cristo, Cristo è venuto, e ti comanda, comandare vuol dire darti una missione, cioè rimetterti al tuo posto, rimetterti nella tua origine, calibrare di nuovo la tua vita secondo l'amore nel quale sei stato generato, per questo non è un comando, perché non è come dire, devi amare, non è quello, non è quel moralismo stupido che non si può compiere, ma è come accendere una macchina e comandare alla macchina party, ma certamente ci ho messo dentro la benzina, l'ho messa a posto, ha fatto tutto Cristo perché la tua vita sia spesa nell'amore, sia consegnata agli altri per amore, allora comandare significa accendere, accendere con la parola, accendere con i sacramenti, accendere con la Chiesa, accendere con la grazia, quello che tu sei, innescare come all'origine biologica della tua vita, innescare all'origine di ogni dialogo, di ogni gesto, di ogni pensiero, di ogni sguardo, di ogni lavoro, di ogni incontro, innescare l'amore dentro di te, questa è la felicità, questo è il comando, perché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome ve lo conceda, e che cosa chiedi al Padre? Amare tutto, sempre, in ogni istante, tutto quello che chiedi, amare tuo marito, amare tua moglie, amare tuo figlio, amare le persone che ti sono affidate, entrare nella storia, entrare nei problemi, con amore, per amore, offrendo la malattia, offrendo la difficoltà, il sacrificio, il dolore, per amore, questo è tutto quello che noi chiediamo, in Cristo, che vive in noi, che si è donato, che ha deposto l'amore del Padre, nella nostra vita. Buona giornata, da vivere come una nuova origine, perché ogni giorno, vi è la chiamata di Gesù, che ci costituisce i suoi apostoli, altri Cristo nella storia, perché andiamo e portiamo un frutto, l'amore, che non si corrompe, ovunque, ovunque noi andiamo, vivere per qualcosa di eterno, per un frutto, nel quale possiamo deporre, anche noi, la nostra vita, la nostra anima, per gli amici, perché non c'è più, anche il nemico, con questi occhi, con questa esperienza, diventa un amico, al quale rivelare, ciò che è stato rivelato a noi, un amore così grande, che sa abbracciare ogni istante, ogni millimetro della vita, facendo di ciascun secondo, di ciascun istante, un principio, una nascita, un'infanzia perpetua, finalmente purificata, liberata, come il battesimo, che ci rinnesta, che ci fa nuove creature, che ci ridà questa origine, pura, innocente, nella quale vivere, la figli di Dio, immagine e somiglianza, dell'amore del padre, come uno zigote, che non difende nulla, ma che offre, ogni sostanza vitale, cosa? Il tempo, il denaro, le parole, i gesti, i silenzi, i sacrifici, all'endometrio, che li attende, chi è? Tua moglie, tuo marito, in una fecondità, che dà frutto, un frutto che non si corrompe, ciò che noi viviamo nel battesimo, lo diamo, lo realizziamo, lo compiamo, nella nostra vita di tutti i giorni, battezzando, tra virgolette, ogni altra persona, immergendo ogni altra persona, nell'amore di Dio, facendolo incontrare, facendolo scoccare questa scintilla, meravigliosa, che è il perdono, che è la misericordia, coraggio, così oggi, quando usciremo con la fidanzata, quando ceneremo con il marito, qualsiasi cosa faremo, noi doneremo la nostra vita, e questo il comando, e questa la missione, e questo il compimento, della nostra esistenza.